Sfrattata dagli alloggi del progetto case con un sms della struttura per la gestione dell'emergenza, quella di Maria Cristina, mamma rumena con figlio a carico, è una storia triste, comettante, che a quasi tre anni dal terremoto denota una profonda crisi sociale nella gestione dell'emergenza abitativa che all'Aquila coinvolge unitamente aquilani e studenti, famiglie e single, migranti e residenti. Maria Cristina è stata sfrattata dagli alloggi del progetto case di Cese di Preturo con un sms inoltrato sul cellulare dalla struttura per la gestione dell'emergenza, residente all'Aquila dal 2007, badante di un anziano, ora venuto a mancare che prima del terremoto l'ha accolta in casa come fosse un familiare, tanto da includerla nel nucleo come residente nello stesso immobile ora inagibile. Stamane in casa della donna i funzionari del comune dell'Aquila ad ascoltare motivi per i quali Maria Cristina non può e non deve lasciare l'abitazione, insieme a lei la figlia dell'anziano che accudiva come se fosse sua sorella. Ho fatto il lavoro di tanti anni in Italia, ho un figlio, ho pagato le tasse come pagano qualsiasi cittadino, avevo il domicilio e la residenza a Pettino dove questa casa dopo il terremoto è inagibile, ho fatto assistenza per tanti anni a una persona anziana che nel 29 di novembre è deceduta e adesso mi trovo in difficoltà perché dicono che una volta cessato il rapporto di lavoro io devo uscire di casa con un figlio a carico. Il contratto che noi abbiamo firmato con la protezione civile, con l'SGE, non lo so, prevede 30 giorni, a me mi hanno dato manco 10 giorni. La motivazione per la quale la signora secondo le procedure dell'SGE a volte troppo rigide rispetto alla moltitudine di casistiche umane esistenti nel doposisma sarebbe quella che vede morire l'anziano che lei accudiva. Accurata, Maria Cristina ci spiega una situazione ai margini, senza una sistemazione alternativa, senza un lavoro, con un figlio a carico, in appiena 10 giorni di preavviso, non saprei dove andare. Rimane il fatto che sia lei che suo figlio sono residenti aquilani e per questo terremotati come gli altri, in una città che oltretutto di alloggi vuoti, tra il comune dell'Aquila e quelli limitrofi del cratere, ne conta di numerosi. Qualcuno mi dice dove devo andare, che devo fare, addirittura stamadina, non lo so signora, non lo so, sono venuti addirittura, devo uscire fuori di cassa perché mi dicono che non mi spetta un alloggio, anche che avevo il domicilio e la residenza nel 6 aprile in un appettino, in un alloggio che adesso è inagibile. Una contraddizione se pensiamo che nel regolamento sull'assegnazione degli alloggi del progetto case, redatto dalla protezione civile, nella postilla sul chi deve presentare la dichiarazione si legge l'insieme di più persone che decidono di coabitare e che necessitano di un'abitazione adeguata, anche indipendentemente dalle relazioni di parentela, sono comprese le persone stabilmente inserite nel nucleo familiare con funzione di assistenza domiciliare ai minori, agli infermi, ai disabili ed in generale ai soggetti non autosufficienti, esempio badanti. Mi rivolgo a un avvocato, ho chiesto un appuntamento con il dottor Pedulà, anche con l'assessore Pelini e alla fine vado fino in fondo anche al dottor Cialente o a chi ci serve, me ne vado, prendo un appuntamento, me ne vado, giuro che me ne vado a Napoletano, che no me ne vado, mi prendo una corda, me ne vado impiccata davanti al comune di L'Aquila. Io più di tanto non so che devo dire, perché ho chiesto aiuto, mi stanno mandando dal comune alla SGE, dalla SGE vai a un superiore, da quel superiore vai più alto così. Adesso sto in attesa di aspettare un appuntamento con il dottor Pedulà.